La notizia ha avuto una grandissima eco. La decisione della Enkel di puntare tutto su Ferentino consolidando nel sito Ciociaro la produzione di detergenti per il bucato e le stoviglie a discapito dello stabilimento di Lomazzo nel Comasco è sicuramente in controtendenza rispetto a quello che si era abituati a vedere sul territorio Ciociaro. Per i sindacati però non è una sorpresa, anzi rivendicano il lavoro svolto. Negli ultimi anni noi avevamo sollecitato la Enkel a predisporre un piano industriale e il sindacato in questo territorio ha orientato verso questo stabilimento tutti gli investimenti necessari affinché Enkel possa restare sul mercato. Credo che noi abbiamo avuto la capacità su questo territorio di attirare gli investimenti grazie alla disponibilità dei lavoratori, alle nostre professionalità che nel corso di questi anni hanno dimostrato di tenere a questo territorio forse in maniera più profonda e anche efficace rispetto alle scelte che la multinazionale ha fatto in favore di questo stabilimento. Quali saranno dunque le prospettive per la Enkel a di Ferentino a partire da giugno? Credo che ci sarà una maggiore produzione, ci saranno allocati altri prodotti, probabilmente anche linee di produzione. Possa rappresentare anche un'occasione occupazionale in più per il nostro territorio e questo non ci può dare qualche soddisfazione in questa direzione. Auspicando anche la possibilità che magari qualche lavoratore di Como possa essere interessato a venire giù. Questa è una possibilità che probabilmente si potrà aprire. Non solo Enkel, sul territorio la socialia può vantare due aziende che stanno lavorando attivamente per la produzione del vaccino anti-covid. Dalla Filstam CGL dunque arriva l'appello affinché tutto il comparto chimico-farmaceutico venga davvero valorizzato. Il fatto che due importanti aziende farmaceutiche producano il vaccino per tutto il mondo sia il segnale che questo territorio ha bisogno di una maggiore concretezza e di una maggiore attenzione delle istituzioni nazionali e regionali. Fino adesso ci siamo protetti da soli, credo che però qualcuno debba aprire su questo modello anche un ragionamento su quello che è stato fatto. E questo lo possiamo fare insieme all'istituzione, insieme alla regione e anche al governo.